Salve, sono Bruseppe D'Aquidare, io sono il country manager di Startup Europe Awards, è un premio che è stato inventato dalla Commissione Europea, in particolare dalla unit Startup Europe, è una unit che è stata creata da una direzione generale specifica, la direzione Connect, che ha pensato di cercare di unire tutti gli ecosistemi nei 28 Stati membri, creando un awards che unifichi in un'unica competizione tutte le migliori Startup del continente. Il tentativo è fare quello che si chiama lo Startup Continent, cioè creare un brand che in qualche modo unifichi. Per tutti gli Stati membri è stato scelto un country manager, per l'Italia siamo noi, abbiamo fatto una selezione tra circa 750 Startup, insieme a 16 co-organizer, con i gironi regionali, tra cui sono state selezionate 50 Startup, che il prossimo 6 di dicembre a Milano competeranno tra di loro. Il premio è andare a competere praticamente contro le migliori Startup degli altri Stati membri. Per il P&A Cube abbiamo fatto un gemellaggio praticamente e quindi noi porteremo una wildcard il vincitore assoluto del P&A Cube a Bruxelles, quindi non competerà contro le altre 49 che arrivano dalle altre regioni, ma andrà direttamente in finale a Bruxelles. Quindi aspettiamo il vincitore assoluto di P&A Cube, lo portiamo a Milano, passerà direttamente senza fare la selezione e andrà a Bruxelles a gennaio a competere contro gli altri europei. Grazie. Allora, noi passiamo velocemente alla consegna delle menzioni speciali. Sono due, una è sola.